Lavori nell'edilizia e vuoi un partner affidabile? Scegli Straudi, il punto di riferimento per le pitture edili, gli isolamenti termici a cappotto, i sistemi a secco, il restauro e il risanamento. Puoi contare sui migliori partner europei e una formazione continua. Ti siamo vicini, con tecnici e agenti sempre sul campo e molti servizi evoluti e completi. Straudi, la forza viva del colore.